Ragazzi ultimo giorno della settimana, venerdì Cioè sono rimasto stupito il fatto che è già passato un mese dal Natale Mancano undici mesi a Natale, cazzo Va bene siamo tornati con un video in cui ci sfracelliamo al suolo Bella ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video Oggi siamo tornati per spaccarci la testa sul cemento possibilmente Innanzitutto grazie per i complimenti del video di ieri Se non l'avete visto vedetelo Aspetta che deve entrare in modalità skateboarder Questa è la modalità skateboarder Oggi siamo tornati su Skate 3 Allora le cose da fare sono rimaste molteplici ma sono anche poche Quindi oggi direi di farne un po' Io oggi avevo intenzione di fare con questa zona A parte che questi sono nuovi, non so che cazzo significa Tipo questo, che cos'è, questo, che cos'è Comunque prima di iniziare a distruggerci la testa e altre parti del corpo Arriviamo a 20.000 like per questa serie Dato che vi piace molto, dato che è una serie ormai storica del canale Cerchiamo di arrivare a 20.000 like Fatemi vedere che vi piacciono ancora questi giochi vecchi Fatemelo vedere con un bel mi piace Dai che ci vuole proprio mezzo secondo per la scelecca Capite? Proprio quel mezzo secondo che non ti ruba niente Niente Devi solo fare click Ah, le cose da fare sono molteplici Mi fa piacere, mi fa piacere Devo fare 20k punti Facilissimo No, questo ce l'avevo provato a fare Era stato un suicidio magico, ragazzi Ora qua bisogna fare caso, raga Bisogna fare dei trick uno dopo l'altro qua, raga Perché altrimenti Potrebbe risultare un problema Però non perdere E dai A parte che, madonna La spinta che riesce a darsi è veramente bassa Bello questo Mi è piaciuto Vedi dei trick randomici Fai così Combo a caso Combo a caso Bene così Mi è piaciuto questo Mancano 20 punti Ma poi mi stoppa da solo Scialla fra Easy Facile Uno dopo l'altro Allora ne facciamo oggi Comunque quello che volevo dirvi È che Probabilmente settimana prossima Finalmente Arriverà il momento In cui io Sbarcherò su Non la lampedusa Non sono quel tipo di persona Ma su twitch Oh, da gap a mano A lungo il piano Che significa? Ah, semplicemente così Va bene, semplice Gap delle scale Fantastico Gap dei fiori No, devo grindare Devi solo prendere quel grind Bravissimo Bravissimo Mi sei piaciuto Guarda che numeri pazzeschi Comunque per chi me lo chiede Io ho provato Session Però era un alfa Cioè non era un videogame Era proprio un pezzo Di codice Che tu potevi utilizzare Cioè non si poteva fare niente Quindi era inutile Corri in mano sulla riva Ma sono facili queste cose Ma perché non le ho fatte prima? Scusami Oh, cazzo Bravo No, ho sbagliato Va bene, ci torniamo dopo a quello Non è un problema Bravissimo Torniamo anche indietro con stile Ti dirò questa cosa Va bene Va bene Madonna ragazzi Ma con quale sicurezza Andiamo a fare certe cose? Questo ti faccio Non gli upflip No, va bene uguale Oddio no, c'è l'acqua Quindi ne manca uno Scendiamo da qua E lo facciamo senza problemi Ma porca madosca Vabbè, barriamo un attimo La prendiamo con le mani E saltiamo E usciamo anche con stile Ma perché queste cose facilissime Non le ho fatte prima? Non capisco proprio Oddio no Oddio no No, questo sarà una rottura Di coglioni gigante Ma me lo dà anche così? No, non me lo dà Me lo devi dare adesso Bravo Eh, non ci arrivo però Lì giù, fra Bello, questo mi è piaciuto Questo un po' di meno Ma me lo dà uguale Beh ragazzi Questo è di una facilità estrema Sono tutti semplici Ma perché non le faccio prima Ste cose? Io mi chiedo No, sdo cazzo vai Questo me lo dà Facile Quello non la farò mai Quello lì mai Non lo farò mai Sapete che vuol dire mai Mai, vuol dire mai Ma perché? Ma perché? Ma perché cade? Non capisco No ragazzi Quello è impossibile Non lo farò mai Mi fa perdere 20 secondi 20 secondi non ce l'ho fatta Ma che fai? Ragazzi il problema è questo È quello Quello non ci può arrivare Ma non ci arriva È impossibile che ci arrivi 7 secondi Ti prego Non failarla L'ultima possibilità Ti prego Lo fa Un secondo dalla fine Mi sei piaciuto No perché lasciare queste sfide così Mi sembra stupido Che devo fare? Trick da 700 punti dal bank lungo le scale È facile Non c'è problema Prima tentativo Magari il primo tentativo no Basta prendere il grind Con un trick randomico Che non è questo 667 Bello No l'aveva fatto eh Non mi fanno attirare Geo stick Oh mi calopio il grind Ora che mi fa incazzare adesso Bellissimo Ma com'è? Perché? Non capisco allora cosa devo fare Forse devo prendere il grind Per forza Da così Ma mi stai chiedendo tantissimo Prendilo Bravo Bravo 7 e 15 Godo 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 Trick più brutto mai fatto Sulla storia dei tempi Quindi ne manca uno Lista stritta di Danny Oddio Sì la mega sfida del boss finale Gap della fioriera Cominciamo a fare quelli semplici Così capiamo come si fanno Il gap della fioriera Non dovrebbe essere un po' complicato Infatti Bene Poi Questo è questo? Yeah Ah ma è questo il gap della fioriera? Vabbè Uguale Questo che cos'è? Oddio ho fatto pazz... Una cosa incredibile eh Non casca nell'acqua? Bravo Almeno non sai caduto Ma questo non capisco Che devo fare? Grinda un corrimano del ponte Ma è difficile L'ho fatto bro Ci sono delle cose Strane Sì Quello come l'ho fatto fra Ma come faccio a far quella cosa là? Devo per forza Eh sì per forza bro Sì ma prende l'albero È impossibile Te che lo fai? No non lo fa È impossibile Bellissimo questo fra Sono volato sulla luna Grinda attraverso il gazebo Cos'è grinda attraverso il gazebo? Oddio lo fa? No Tutto? Devo farlo tutto Ok Ma non puoi? Ma come No è impossibile Bene siamo tornati al punto di prima Cioè questo significa che io devo fare semplicemente questa cosa qui dentro? Assolutamente no Ah santo Dio Qual era la differenza? Facciamo questa tumorata che non riuscirò mai a fare Perché è una tumorata E quando è una tumorata è difficile farla Quindi non ci passa Oddio Ti prego L'hai fatto eh E l'hai fatto E l'hai fatto Manca solo di buttarci nel fiume Manca solo il ground Da 1500 punti Difficile Perché ne facciamo 1100 Giustamente Ti prego No non mi fa ricominciare di nuovo Fra dove cazzo vai? Ma dove voli? Come fai a volare? E vola Io non capisco la fisica 1100 Raga ma Poi dici ti incassi 1200 1200 1200 No raga è impossibile 10 secondi L'ultima possibilità Non ce la faccio O me lo suicido Daggia al cazzo eh Non me lo fa neanche finire Ricominciamo Dai green da qui per favore Grazie Poi andiamo a fare I fiori di merda Con un nolly easy Respawniamo E facciamo Questo Che non me lo ha dato Perché? Ah l'ha fatto? Va bene Poi qui che cos'era? Era saltare il buco Salto il buco Questo me lo da così Sì Va bene Ok Va bene No di nuovo il gazebo Bravo Mi sei piaciuto Ora abbiamo 3 minuti e mezzo Per non impazzire Guarda là Come allarga le gambe Cioè ma Ma che cosa devo fare Per farne 1.500 1.500 Più bello Della storia 1.500 Vi giuro adesso lancio il joystick Dalla finestra Ma sì Già è Gesù Cristo Sull'albero Arriverà il momento In cui ne faccio 1.500 1.500 1.000 1.500 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 Oddio E no Ce ne sono altri comunque Se avessi più tempo Magari potrei fare Però non l'ho Perché è l'1 E' 25 Vediamo qualche spot Che ci manca da fare Vedete ci sono degli spot Che dobbiamo stravincere Questo non ho ancora fatto Fioriere e follia Ma siamo pazzi Conquista spot Beh na cazzata Ammo fatto il grind Da 1.500 1.500 1.500 Che fa Fascista Guarda le persone in mezzo Ma vi levate dal cazzo 824 Però non è così difficile Questo che mi sta sul cazzo Di questo gioco Perché certe volte Pare fatto Veramente apposta E vola Volare 920 Ma record personale 982 L'ho visto ora No No Era 1.800 Dammelo Godo come un porcellino D'India Fa cacare Ma Godo Sporgenze canale Sbloccate Meno male Bene ragazzi Comunque spero che il video Vi sia piaciuto Noi ci sentiamo lunedì Con il date and breakfast E anche forse Su Twitch Quindi preparatevi Perché è arrivato Quel momento In cui devo streammare Quindi raga Noi ci sentiamo lunedì Con un nuovo video Spero vi sia piaciuto E nada Seguitemi su Instagram Perché Faccio schifo Ciao Ciao